ciao ragazzi oggi sostituiamo la batteria a un huawei p8 huawei p8 è sempre stato un po problematico con la batteria non è il primo che arriva quindi se la dovete comprare un consiglio che vi do è compratela originale huawei perché dà problemi comunque passiamo alla pratica iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.